L'amministrazione comunale di Locri è vicina alla conclusione del progetto per l'aggiornamento del piano comunale di spiaggia, uno strumento fondamentale che dovrà essere adeguato per armonizzarsi con il più ampio progetto di sviluppo del lungomare. Affidato all'architetto di fama internazionale Carlos Ferrater, il nuovo piano elaborato all'ufficio urbanistica del comune è stato pensato per rispondere alle esigenze attuali del territorio, tenendo conto delle sfide ambientali, storiche e culturali. L'architetto Nicola Tucci, responsabile del settore, ha sottolineato che l'aggiornamento del piano rappresenta una calibrazione delle prospettive rispetto alle previsioni passate, inserendo nuovi interventi in linea con le opere già in fase di realizzazione. L'obiettivo, secondo l'amministrazione comunale, è sviluppare una pianificazione armoniosa che possa valorizzare al massimo il litorale Locrese. Uno dei progetti di punta del comune è il lungomare Zareuco, per il quale è stato affidato uno studio di fattibilità proprio a Ferrater. Questo progetto, integrato con gli altri interventi in corso, mira a trasformare in un elemento centrale di sviluppo turistico ed ecosostenibile, puntando a rendere la fruibilità del waterfront, il biglietto da visita di Locri e dell'intero territorio della Locride. Il sindaco Giuseppe Fontana ha espresso soddisfazione per l'avanzamento dei lavori, ricordando che le nuove progettazioni si sommano alle opere di urbanizzazione già pronte in fase di cantiere. Tra i recenti interventi è stata inaugurata una pista ciclabile sul lato nord del lungomare, che segna l'avvio del progetto Città del Mare, un'importante opera che collegherà Locri a Siderno grazie al finanziamento della città metropolitana. Fontana ha inoltre evidenziato il proseguimento dei lavori nei comuni limitrofi, come Geraci e Antoni Mina, con la prospettiva di creare un collegamento tra il lungomare di Locri e il parco archeologico di Locri e Pizzeferi, un'area di grande rilevanza storica e culturale. Questo aggiornamento del piano comunale di spiaggia è quindi solo una tappa di un più ampio progetto di rigenerazione urbana, che punta a fare di Locri un esempio di sviluppo sostenibile e valorizzazione delle risorse naturali e storiche.